Traghetto Pietro Novelli in arrivo al porto di Mazzara del Vallo. Sta girando qua davanti. L'elicottero qual è? Ma non lo so, ma come mai si sta girando qua davanti? Il Pietro Novelli. Questa è la prima volta che lo vediamo entrare. Eh già. C'è solo da quasi due mesi. Fa una manovra strana comunque, Gio. Guardate il video, Gio è bellissimo, guardate il video. Gio va! Per ora ce l'abbiamo proprio di fianco. Peccato che non vediamo tipo... Non vediamo nessuna fiora. Io vedo un po' di fiori. Io pure. Non ci stanno sotto così come gli avessi. Eh voglio andare qui. Voglio pure tu qualche video. Iai, iai. Io. Ehi. Ehi. Grazie a tutti. 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 Grazie. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.